Non c'è altro modo? Non c'è altro modo, non c'è altro modo. In testa al gruppo abbiamo Sante e Alessandra. Com'è? Non c'è altro modo, non c'è altro modo. Non c'è altro modo, non c'è altro modo. Non c'è altro modo, non c'è altro modo. Non c'è altro modo, non c'è altro modo, non c'è altro modo. Non c'è altro modo, non c'è altro modo. Non c'è altro modo. Non c'è altro modo, non c'è altro modo. Non c'è altro modo. Non c'è altro modo, 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 non c'è altro modo.